Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video in compagnia di Dani che sta già ballando, di Tia che sta già ballando e di Diego che aspetta il suo turno E poi non balla, con questa intro ordinatissima io direi di andare subito in partita Finalmente andremo ad aprire il fottuto bunker con il fortino, fortatile, fort coso E poi vi mostrerò la mia nuova danza agli altri che sto tenendo in serbo per quando atterriamo E in serbo e non in italiano E' per questo che non ti voglio più bene Lande letali Così a cazzo Lande letali? Se sono letali ci sarà un motivo, dicevano Perché ci faccio le puzzette dentro io Ah, la capanna allandese di Dani? Esatto Quel caso si chiama la lande letali Letali Dunque raga io non vorrei dirvelo ma hanno rimesso Googly comprabile E io l'ho ignorato anche questa volta Eren non lo hai accorto No, se questo video ragazzi raggiunge 4.000 like Eren shoppa No All'inizio del prossimo video No, 4.000 like no, dai Perché li fai subito, eh? Se raggiunge 15.000 like Shoppo Google e lo uso in un video E sei il mio ultimo video E questa l'ho tagliata Così non succederà Oh shit Ma perché la mia Neanche riusciamo a parlare che siamo già morti No, guarda, siamo morti tutti, anche Dani Eren sei l'unico vivo Dove stanno? Senpai? Senpai? Ma io l'ho It happened Beh 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 Nice Piston moved inside me, senpai Non è la tua settimana No Unlucky Ragazzi, Tearless ha bisogno di cavare Se siete ragazzi singoli in Irlanda Scriveteli su Instagram Anche ragazzi Anche cani di Ma che schifo Ma non dovete essere per forza bellissimi Anche leggermente bruttarelli Anche se avete la testa caprina Le sembianze caprine, va bene Mal che vada esiste Federica Voglio un ragazzo sexy che mi guardi come Eren Con quelle bellissime occhiaie Lars, dove vai? Ah, grazie Lars, mi chan, dove vai? Dani? Sono qui Ma puoi droppare con noi, per caso? Ah, no, avevo visto delle casse Allora Sì, ma ti sembra il caso? Io devo fare gli screenshot dalla miniatura Tu vai là Raga, quanto ci scommettete che passeranno Meno di due minuti Prima che Dani venga shottato? Noi ci seppellisce tutti Questa tua mancanza di fiducia Alle miei confronti Mi lascia esterrefatto Quanti Tiara Se tu non sai accettare le mie giocate Te ne stai a casa? Che giocata è? Guarda dove sei? Che giocata è? Vai pure in safe A mangiare le patatine A bere i fruttini A bere i frutti Come si bevono i fruttini? Cosa significa bere i fruttini? Sono i succhi di frutta Eh, ma io vedo un Dani che muore Raga, oh, letteralmente due minuti Non è vero Non è vero Non è vero, è una mezzoglia Sì È morto L'edizione Nostradamus Ma sei un cane Ma che è Nostradamus? Puff Ah, no, spuff Oh Scusa Così si è ragione Non fare la carne Poverò la mia depressione sul cibo Come ho fatto negli ultimi 22 anni Che è un ninja nella chat Ma non penso sia l'originale Da vero? Come si chiama? Come si chiama? Che c'è scritto? No, no, no Raga, lo dobbiamo killare Lo dobbiamo subito killare Allora, tenete d'occhio la chat Perché potrebbe ricompadire O ci dobbiamo far killare Ah, no Ma c'è i caratteri C'ha gli spazi Daivi No, c'ha gli spazi in Vryla Ma mi è venuto un infartino Guarda Vedete che non mento? Io non mento mai Questa è la tattica Io muoio Tu li uccidi Mi tiri su Scappiamo dalla safe Mi piace Wow Che best'attica è vero No, c'è qualcuno dentro Allora, adesso funziona così Io Aspetta, aspetta Io rompo Aspetta, io rompo Io rompo Ecco, ecco, fermo, fermo Fatto A posto Ho sempre sognato di farlo, cazzo Bam 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 Vai, Simo Mangiatelo No Sì, sì Sono a dieta Mi distrugge ogni volta che la fiamma Ha sotto il logo dei V-Bucks Perché secondo me bruciano i soldi Ah, sì Sì Bravo I soldi che noi scioppiamo Ne erano così tanti Che li bruciano Come combustibile delle partite Ma avete idea di quante persone shopping su sto gioco? Sì Ma vai che in sta stagione C'erano più carburi che altro Cioè Il no skin era un po' massimo Anzi I no skin probabilmente sono quelli che sanno giocare Perché vogliono far credere di essere incapaci Esatto Sono i poveri Siete pronti a vedere il mio ballo? Vai È buonissima Ma Ma che cazzo di figata Eh Quella musichetta Vai ballate anche voi Tra voi proprio Eh io devo accontentarmi della giustizia arancione ora È bellissimo Eh? Mamma mia Ah quanto amo Twitch Prime Ti prego fortatile Dai che lo troviamo direttamente dentro il boschetto C'è il boschetto Bosco A posto C'è il fortatile Abbiamo il fortatile La persona Sì 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 Vieni tagliate No Sto ballando Ok Ok Andiamo Andiamo subito al bunker Raga Venite No è fuori Che facciamo Abbiamo un minuto e mezzo Raghi Presto Presto È qui È qui dietro Abbiamo un minuto e venti Yes sir Tranquillo che facciamo Ce n'è un altro Ce n'è un altro Ce n'è un altro Campioni del mondo Doppia chance raga Apriamo sto bunker Allora io in teoria provo a spararlo Al centro E vediamo Allora Diego spostati Uno per volta Così proviamo Vado Ok Se adesso apro Ok Io in teoria Distruggendo le pareti Dovremmo essere in grado Di aprire Oppure modificandole Sì raga si è aperto Allora Adesso questa cosa L'hanno già fatta in 3000 Nei video In realtà Però si può vedere un sacco sotto Posso buttarci la roba No 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 Era Guardate una cosa figa Che ho scoperto Guarda Aspetta Posso costruirci dentro Che top Ma non possiamo usare la scala E c'è guarda È vero C'è questa barriera del cazzarola Non puoi neanche romperla Uuuu Oh Vabbè comunque non si può scendere Io proverò col drone Ma credo che non si possa Oh raga mi sparano Mi sparano Mi sparano Scusa stavo facendo una canzone Che cazzo ma mi ascoltate o no? Ma stavo facendo una canzone di successo Mi interrompo Ma cosa minchia me ne frega Delle canzoni di successo Da dove ti sparano? Ma non ne ho la più pallida Da Ovest Allora chi ha prima di tutto Fa smittoni Perché qui Luca Oh 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 Pitch C'è un altro che sta scendendo C'è un altro che sta scendendo Oh il vampa raga Ah vedo il tipo che sta lanciando Zando È nostro C'è uno Non andare da solo È venuto lui da me Zio Dai Colpo un po' a viola Due colpi Ma dai Cazzo Sì è quella che è uscita anche a me Siamo terzi Siamo arrivati tre Non dicevamo mai Allora ragazzi abbiamo aperto il bunker Ora La cosa che non ho visto fare Nei vari video sul web È provare col drone Probabilmente Non si passa C'è la barriera Sì la barriera invisibile Esatto se c'è nel gioco Se c'è in partita C'è anche nel replay È un muro Fa senso Comunque sia Ci permette di zoomare sotto E di vedere i sassolini E l'inutilità Di ciò che c'è sotto Ma visto che non abbiamo ottenuto niente Avevo visto un'immagine sul web Ve la metterò in fase di produzione Dicono di aver glitchato E all'interno si vede solamente uno spazio vuoto Che è grande più o meno nove unità Se mi passate il termine Quindi nove spazi Nove di questi quadrati Non so se è vera o fake l'immagine Però presumo che sia davvero vuoto E che andrà riempito in un secondo momento Comunque è interessante il fatto Che ci si può costruire dentro Quindi è proprio esistente Però qui c'è uno strato invisibile Che impedisce ogni cosa Un mimer è proprio eccellente In questo momento sono Delicatamente arrapato Delicatamente Cosa significa delicatamente arrapato dai? Non del tutto ma un pochino Hai presente quando vedi una zeppola? Si dice barzotto Ok Barzotto Raga hashtag barzotto sotto l'ultimo video di Dani E vai cazzo Farò un pochino a visuale in più Tipo si è l'engagement che aspettavo Farò dalla montagna Farò dalla montagna Farò dalla montagna Vaffanculo Lama di merda Me ne vado Dalla montagna Dal razzo Sì sì dal razzo Raga io mi metterò Mi metterò ad arrostire qui su questo barbucco No Ragazzi se volete una jump E li saltiamo in faccia Dai usala Ti capro io Non c'è ma quel lama Raga 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 Andiamo 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 con la jump Merda non si arriva da nessuna parte Ne scherzavo Non ho mai visto una jump così brutta tia Ho finito il materiale Accucciati accucciati Yes quello che sono bravo a fare è curare la gente Intermi ragione Da portrillo Aspettiamo un attimo Ok non sei Gli ho shottato uno raga andiamo andiamo Dai 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 Pusha pusha push Dani pesaci tu Yes Preso Wow Grandi Ah ma devi scrivere Ah ma devi puttare con me Ah yes Yes Wow Swag a lot Swag Swag E tiri sopra Eren puoi non farmi pringiare più del dovuto Grazie Dai Dani Tiramelo su Dai arrivo Però se mi dici tiramelo su Cioè Eren mi stai Ah intendevi in quel senso Arrivo subito La risata perv di Dani Fate Potete fare una fanpage La risata perv di TheLarts Per piacere Ahia Cos'era sta roba Sai che ora che l'hai detto ci saranno diciotto pagine così Thank you very much Thank you very much L'hai detto Tear Ora che l'hai detto ci saranno diciotto pagine chiamate in quel modo Ah Hanno appena affreddato Diego Debe noob 94 Beh si sarebbe dovuto coprire Sì Tutti i due qui sotto Uomo sparano una f***a Io ho finciato le cose Mio d***o sto laggando Bomba era buona Sono entrati dentro mi sa Ah è entrato No no mi sa che loro sono dentro Occhio Non so se è una buona idea Giro così Trust me Trust me Merda No sei proprio un coglione No l'ha fatto davvero Mi hai ritenuto il pavimento sotto Dani vuoi staccare? Ti prego Dani aiutami almeno tu Eh vabbè Lì 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 Mi sono stato ucciso da uno che si chiama The best noob Raga io l'ho anche colpito col pompa Ma non serve a un cazzo Ragazzi Per questo video è tutto Ricordatevi di flexare E come dice Tear Fidati di me Ehi ma Non mi bebare Grazie a tutti